Buona Pasqua! Mamma, posso dire una cosa? Una Pasqua in quarantena, cosa vlogghiamo a fare? Va bene dai, ci godiamo la famiglia. Abbiamo sette. Cosa stai aspettando? Le carne, non vedo l'ora di aver finito perché abbiamo mangiato cinque uova. Non le abbiamo mangiate, le abbiamo aperte. Aperte e mangiate un pochino. C'è ancora un po' di pezzi. E dall'Angelina se ne andate degli altri di Spider-Man e un altro di Diario. E allora dobbiamo muoverci a mangiare che dopo apriamo le altre uova. Le altre uova. Ce la fai Tommaso? È pronta! Dai, aprilo. Apri, aprilo. Apri, aprilo. Ma non hai bocca! Apri, l'ho! Apri, l'ho! Apri, l'ho mia mamma. La società Vega superfile. Tommaso! Speriamo che c'è la macchia. No! Progetto, realità, sensori, l'idea e sensore, la misura, funzionalità, senso estetico e un valore aggiunto per la tua casa. È tutto. Ancora gli auguri di una... Certo! Ladro! Ladro! Che voglio! No dai, sta su! Che voglio buttare! Mamma, adesso cade giù! Filmami! Sì, a venta! È lei! Buongiorno! Allora, dopo un mese di tutta e pigiama, oggi, dopo aver mangiato l'uovo di Pasqua, ho avuto la mal sana idea di mettermi i jeans. Per fortuna ci entro! Di là stanno giocando a tennis. Tommaso sta dormendo, gli ho tagliato i capelli, fatto il bagnetto, adesso sta dormendo. Dopo scendiamo, perché fuori si sta decisamente bene, visto che non possiamo muoverci, almeno ci godiamo al giardino, avendo la fortuna di averlo. E adesso penso che andrò di là a giocare anch'io a tennis. Adesso vi faccio vedere. Quello rosso! Questa cosa! Mi avete smontato il salotto! Duda! Duda! Intanto qua, parlando di jeans, mancano due ore e otto minuti e Manu ne ha messo su qualcosa lì, credo sia del pane. Sembrerebbe del pane. Non mi ricordo come si fa. Ti tocca. Ti tocca. Ti tocca. Ti tocca. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Com'è? La coccola. Ma cosa ti siedi sopra la mamma? Buona Pasqua a tutti. Adesso ti mostriamo una cosa che non hai mai visto tu. Tagliate anche i capelli qua. Mi ami? Ho chiesto se mi ami. Mi ami? Non si può dare a pesca. È vietato dall'autocertificazione. Ma perché mi ami un bacino? Tommaso viene a darmi un bacino. Mi ami non gli no, dite. Mi ami non gli no. Ma togli a Pippo per darmi il bacio, scusa. Ma poi cambiamo il gioco? Tu dammi un bacio. 35 a 110. Dammi tu un bacio. Adesso di quelli... Guardate cosa sono riuscita a trovare ieri per miracolo. 500 grammi di lievito fresco. Peccato non aver trovato anche uova. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Noi siamo stati giù fino alle sette e mezza più o meno a prendere il sole, a giocare, a correre, a raccogliere i fiorellini per la mamma. Non so se avete visto le foto che ho messo su Instagram che mi regalava i fiorellini. E' dolce, 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 dolce. Questo bambino. Adesso sono quasi le ore, adesso sono quasi le ore, abbiamo appena finito di cenare e adesso cosa facciamo? Andiamo a lavorare e a fare le ninne. Niente, niente, speriamo abbiate passate una bella Pasqua per quanto possa essere stata bella in questo periodo e ci vedremo. Ciao. Ciao. Fai ciao qua, manina. Manda un bacino. Da un bacino. Dai. Manda un bacio. Qua manina. Così. Da un bacino. No alla mamma. Da un bacino. Ciao. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.